Il complesso è complicato il panorama della sanità, soprattutto quando si tocca l'argomento relativo alle industrie farmaceutiche, ai relativi prodotti, ai modi e ai tempi di accedere al farmaco. Giunge all'Università degli Studi Partenope una riflessione circa il market access e le relative strategie di innovazione al passo coi tempi per il successo delle imprese, sottolineando le peculiarità di ogni regione, in particolare quelle delle campagne e le differenze tra regione e regione che purtroppo permangono scrivendo quel sempre presente di varia tra nord e sud. La sanità campana assorbe il 70% del bilancio regionale, un settore cruciale soprattutto per assicurare servizi sanitari di eccellenza ai nostri concittadini, ma anche il settore economico, c'è un indotto che realmente garantisce occupazione e tutto ciò che possa essere al servizio degli amati concittadini campani. La Campania sta facendo qualcosa come regione, però prima sentivamo una delle relazioni dove si identificava una certa scelerità.